questo programma è presentato da antica norcineria di lattanti franco e figli il nostro corso gratuito www.mesmerism.info buonasera ai nostri spettatori siamo qui alla puntata numero 2 del dopo covid di scienza e lavoro come avete visto stiamo cominciando subito nel farvi sentire le voci delle persone che in realtà non sono mai state in lockdown sono state persone che sono state impegnate perché oltre ad occuparsi loro stessi si devono occupare e anche degli altri di voi in questo caso stiamo parlando degli imprenditori di tutta la città metropolitana di roma abbiamo qui con noi il presidente della confrattigianato della città metropolitana di roma andrea rotondo andrea buonasera ben trovato buonasera a te ecco andrea di gravità tante volte si era come dire detto che le realtà le associazioni di categoria come dire avevano perso un po' il loro ruolo rispetto il sostegno la rappresentanza come dire la capacità di portare la voce del sistema imprenditoriale dentro le istituzioni mi sembra che come dire questo periodo abbia dimostrato un po' a tutti e anche i miei scettici che in realtà le associazioni di categoria sono vive sono forti e servono giusto verissimo noi abbiamo lavorato per tutto il tempo grazie al cielo stavamo all'interno dei famosi codici a teco che in parte hanno funzionato in parte no e come hai potuto vedere abbiamo diciamo ci siamo impegnati su tutta una serie di tematiche che erano fondamentali in questo momento per sostenere i nostri imprenditori i nostri associati penso nella nella crisi peggiore che questo paese abbiamo incontrato fino a questo momento allora la confartigianato nazionale ha avuto un anch'essa un ruolo per cercare di dare delle così dei consigli al governo a chi ha fatto delle richieste ben specifiche le vediamo nel servizio del telegiornale della confartigianato nazionale e poi le commentiamo insieme Andrea Ardondo il presidente della confartigianato di Roma vediamo il servizio Merletti al governo le piccole imprese sono punto di forza per risollevare l'Italia da confartigianato le istruzioni per riaprire in sicurezza le imprese del restauro tornano a lavorare dal governo risposta positiva a confartigianato la regione Abruzzo riapre il 18 maggio via al benessere e presto anche all'alimentare la piccola impresa diffusa di territorio che ha consentito all'Italia di rimanere il secondo maggior paese manifatturiero in Europa e leader globale nei settori made in Italy è il punto di forza su cui fare leva per la ripresa del paese lo ha sottolineato il presidente di confartigianato Giorgio Merletti intervenuto il 6 maggio in videoconferenza all'incontro con il governo a Palazzo Chigi sulle misure del decreto maggio il presidente Merletti ha indicato all'esecutivo 8 punti irrinunciabili per sostenere la ripresa riaprire le aziende garantendo la massima sicurezza per gli imprenditori e i lavoratori dipendenti le regole da rispettare sono spiegate in due infografiche e in una serie di mini video messi a disposizione da confartigianato semplici ma esaurienti sono strumenti indispensabili per conoscere e osservare quanto previsto dal protocollo anticontagio imprenditori e lavoratori dipendenti sapranno così come comportarsi in questa fase di riavvio delle attività e come operare in sicurezza secondo le norme che riguardano tutti i settori delle attività economiche il governo ha recepito le sollecitazioni di confartigianato e ha dato il via libera alle imprese di restauro ingiustamente coinvolte nella sospensione delle attività per un'errata definizione a teco il governo ha confermato la denuncia della nostra categoria e ha sottolineato come tali attività non siano infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice ATECO 90.0 un chiarimento importante arrivato prima con una FAQ pubblicata sul sito del governo e poi con un decreto dello sviluppo economico la regione Abruzzo anticipa il governo e fissa la riapertura di centri estetici e parrucchieri al prossimo 18 maggio il nostro ecco la regione Abruzzo ha dato un suo chiarimento noi ci aspettiamo degli chiarimenti sicuramente anche dalle nostre autorità ecco dal comune di Roma e dalla regione Lazio che cosa c'è da dirci su questo Andrea? allora noi stiamo aspettando a livello regionale parliamo di regione Lazio il DPCM e poi da quello arriveranno le varie ordinanze la confrattigianata nazionale come abbiamo visto ha dato una serie di linee guida su tutti i settori i più importanti oltre al restauro sono stati la ristorazione e tutto il settore del benessere su questo soprattutto in regione Lazio è stata fatta una campagna importante di sollecitazione del nostro governatore tanto è vero che il 18 dovevano riaprire i centri estetici, i ristoranti, i parrucchieri dovevano riaprire il primo maggio, apriranno il 18, apriranno questo lunedì con una serie di regolamenti che prenderanno spunto dai dettami dell'INAIL sicuramente e da una serie di interventi che probabilmente impatteranno a grandi linee aspettando sempre l'attuazione che probabilmente arriverà oggi o al massimo domani immagino perché è necessario anche avere tempo per implementare qualunque tipo di normativa impatteranno sulla sicurezza, quindi parliamo brevemente di informazione, formazione all'interno delle attività l'integrazione del DVR sarà assolutamente necessaria un ruolo fondamentale lo sta acquistando il medico che avrà un rapporto importante col RELLLS e RELLSPP che sono le due figure all'interno delle attività che hanno una responsabilità sia formale che sostanziale sul sistema sicurezza tutto questo insieme a un acquisto di dispositivi sanitari che i nostri imprenditori hanno già fatto da tempo quindi siamo pronti a ripartire, lo siamo appunto da diversi giorni e probabilmente se ci possiamo permettere di dire forse siamo arrivati anche un po' a ritardo in confronto anche ai nostri competitor internazionali Una cosa ho notato è che da una parte sia regione che comune sono state un po' immobili in merito al loro contributo all'economia nel senso che da una parte sicuramente c'è stata una disponibilità ad ascoltare delle proposte sono arrivate anche dal confartigianato come dicevamo in merito alle riaperture in merito delle linee guida soprattutto parliamo del settore della ristorazione, bar parliamo del settore dell'accoggiatura e altro devo dire la verità che mi sarei aspettato un piano più ampio rispetto a investimenti pubblici per cercare di dare anche del lavoro alle imprese perché oggi le imprese possono anche riaprire a tutti gli effetti però come dire serve un po' di domanda indotta cioè da una parte ci sarà tutto il settore se la paura verrà superata dei dipendenti pubblici o dei pensionati che il loro reddito ce l'hanno garantito che continueranno a consumare attenzione che noi abbiamo tutto il settore privato in enorme crisi secondo me un po' di investimenti pubblici cioè che ad esempio attivare tanti cantieri stradali tanti cantieri nei giardini pubblici o fare tutta un'altra attività potrebbe stimolare un po' il domanda ecco su questo non ho visto un piano chiaro forse qualcosa andrebbe stimolata allora Diego sono due livelli secondo me mi ricollego anche al servizio che abbiamo visto prima vediamo le proposte nazionali di confrattigianato non si sono esaurite solamente con il pacchetto di regolamenti e di procedure per la reattivazione ma abbiamo parlato anche di ristoro a fondo perduto di flessibilità sulle perdite di bilancio abbiamo parlato di sistemi di carry back di split payment di compensazione diretta di debiti e crediti a livello nazionale e della sospensione dei codici di appalti questi sono strumenti importanti che il ristoro lo abbiamo in questo decreto i famosi 1000 euro per le piccole imprese vediamo poi l'attuazione naturalmente quello farà la differenza abbassando il livello sugli enti locali le forme di intervento a livello regionale si sono legate sostanzialmente ai sistemi di fare lazio penso che tu ti stessi riferendo a strumenti di intervento reali chiamiamola di liquidità anche se non stiamo parlando di liquidità stiamo parlando di strumenti che portano i nostri imprenditori a indebitarsi la liquidità è un'altra cosa Fare Lazio è intervenuta con i suoi strumenti classici quindi un bando da 10.000 euro legato agli strumenti di finanza agevolata che ha avuto molto successo tra l'altro tanto è vero che è stato rifinanziato questo ci fa capire che c'è che c'è un fabbisogno reale mi stavi chiedendo bastano o non bastano come facciamo a riattivare la domanda il discorso sale di livello non la attiviamo solamente con nuove procedure di accesso al credito anche perché non sono cambiate le regole giuridiche di accesso al credito cioè è rimasta la norma sul fallimento aziendale è rimasta la continuità aziendale sì l'abbiamo progressinata ma fa sempre parte insieme al al banale calcolo del ROI aziendale di quello che è lo score bancario questo non è cambiato e quindi le molte lamentele di imprenditori che pensavano di andare in banca e avere un finanziamento dedicato in una settimana sono legate a questo le procedure sono rimaste le stesse ce la possiamo cavare aumentando l'indebitamento bancario no sicuramente sono necessari strumenti differenti un primo passo possiamo dire di averlo visto in questo nuovo decreto con le azioni di ristoro che passeranno dall'agenzia delle entrate un po' su un modello anglosassone probabilmente non basterà neanche quello sicuramente c'è il taglio dell'Irap c'è un intervento sull'Imu sarebbe stato più facile banalmente come hanno fatto in altri paesi a restituire l'anticipo IRS e Irap ce la saremmo cavata molto più velocemente allora vediamo un po' la sindaca un intervento su qualche argomento lo fa pubblico si sbilancia insieme al viceministro Castelli del ministro dell'economia e finanze ci parla di di come si andrà e cosa si farà rispetto al trasporto vediamo la comunicazione fatta sul blog del 5 Stelle da parte del sindaco Raggi eccoci ciao ciao Laura allora siamo qui oggi con il viceministro Laura Castelli per parlare di mobilità sostenibile in fase 2 per la pubblica amministrazione come sapete la fase 2 è quella nella quale si cominciano a riprendere via via le attività e uno dei temi più critici sarà la mobilità nelle città questo perché molti di noi erano abituati a spostarsi in un mezzo pubblico i mezzi pubblici hanno necessità di una revisione delle modalità di utilizzo come sapete non si può più viaggiare come prima ci sono le regole di distanziamento sociale anche nei mezzi che significa trovare delle alternative agli autobus alle metropolitane che continuano a girare ma ovviamente non possono più caricare tante persone sticchie abbiamo iniziato a fare un ragionamento a vari livelli su quella che è il lavoro nella fase 2 e probabilmente anche in modo permanente come lo sarà in futuro abbiamo pensato di incentivare lo smart working abbiamo pensato di lavorare insieme ai ministeri per incentivare un sistema di navette abbiamo scritto così una lettera alle varie pubbliche amministrazioni tra i cui ministeri e devo dire che il MEP il ministero dell'economia e delle finanze è stato il primo a rispondere per cui oggi il vice ministro ci racconta quello che stanno facendo Laura grazie grazie Virginia sì quando è arrivata la tua lettera devo dire siamo rimasti tutti molto contenti e ti ringrazio perché è un comune vicino alla parte più difficile delle istituzioni i ministeri hanno tanti dipendenti Roma è una città che vive di ministeri ci ha fatto sentire molto molto vicina anche ai dipendenti quindi dopo molte settimane di lavoro da casa dove il ministero si è svuotato perché le persone hanno cominciato a lavorare da casa devo dire con grandissimi risultati ti dicevo prima mentre ci sentivamo al telefono che siamo riusciti a pagare tutti gli stipendi dello Stato da casa cose che erano quasi impensabili quindi la tua lettera ci ha fatto molto felici perché avevamo già cominciato ad attivare tutti quei protocolli necessari sono delle regole le regole guida parliamo dell'accesso del personale quindi come devono entrare i distanziamenti come si trasformano le riunioni in open space che non si possono più fare l'installazione delle segnalazioni all'interno del ministero stesso che è grandissimo insomma tutta una serie di cose che sono i nostri nuovi protocolli di vita e grazie alla tua lettera abbiamo potuto accelerare il secondo pezzo che era quello di un ministero che vuole stare vicino ai propri dipendenti e organizzare un po' quella che è la loro vita considera che il ministero dell'economia che finanze ha una fascia che è circa il 55% di persone di dipendenti che hanno un'età tra i 55 e i 65 anni e l'80% di loro si muove all'interno di Roma per poter venire a lavorare quindi il lavoro che tu stai facendo insieme alla tua giunta è importantissimo per permettere uno spostamento adeguato e soprattutto coordinato senza allora vedo come ho la percezione che tante volte alcuni amministratori pubblici come dire non avendo vissuto una vita reale del fare del costruire del realizzare tutto il resto sono non riescono a costruirsi l'ordine delle priorità no? cioè pensare che un vice ministro dell'economia è un sindaco della capitale quindi una città importante come dire gioiscano per un argomento che in questo momento penso che sia nell'ordine di priorità a quota come dire un milione diciamo rispetto ce ne sono prima 999.999 come priorità rispetto a questa un po' un po' mi stupisce cioè io come dire come abbiamo detto lunedì riaprono ma si può riaprire e come dire senza clienti cioè io riapro ma come faccio a fare economia cioè come faccio a fare i ricavi quando riapro allora questo è il grande tema sicuramente la prima cosa che immagino gran parte dei cittadini hanno pensato quando hanno avuto l'opportunità di uscire da questa carcerazione forzata lasciami lasciami il termine è vedere dei parchi puliti delle strade aggiustate insomma più di due mesi siamo stati costretti a una così a una galera forzata tutto questo non è avvenuto sicuramente è stato difficile attuare quei bandi soprattutto sulla soprattutto quelli fuori regione quindi capisco che era complicato richiamare gli operai che appartenenti a ditte non di Roma per svolgere dei lavori questa è stata un'occasione d'oro l'abbiamo persa venendo qui sulla Formellese praticamente è un tappeto di macchina che stanno facendo dei lavori stradali penso da qualche giorno quando si potevano fare ampiamente anche se non è questa non la possiamo attribuire al comune però è per avere insomma è un altro di quei problemi che si accumulano nel servizio parlavano di viabilità parlavano sta ritornando la moda delle biciclette dei monopattini io sono contento perché mi muovo in bicicletta da da molti anni però sicuramente stiamo sottovalutando tutta la filiera che riguarda l'automobile la prima cosa che mi viene in mente che dà lavoro a migliaia di persone come facciamo a riattivare la domanda sicuramente se non possiamo uscire la domanda non la riattiviamo possiamo aprire qualunque tipo di attività commerciale ma se non abbiamo i clienti se non abbiamo le persone difficilmente possiamo far qualcosa dei regolamenti ne abbiamo parlato prima a livello come stiamo cercando di condizionare gli interventi del comune come sistema anche come sistema allargato perché insieme a noi in questo momento stiamo vivendo una comunanza di intenti col sistema confesercenti col sistema confcommercio più o meno andiamo avanti andiamo tutti nella stessa direzione tornando alle problematiche del comune di Roma l'occupazione del solo pubblico è qualcosa che ancora oggi sta sui tavoli del comune l'aumento del 35% ci dovremo arrivare si sta dibattendo se arrivarci con una delibera del consiglio ci vuole un po' di tempo o con una semplice ordinanza la nostra proposta banale è stata fate l'ordinanza e poi andrete in delibera in un secondo momento insomma una proposta abbastanza banale l'abolizione della COSAP potrebbe essere fatta domani la cancellazione della Tari potrebbe essere fatta nell'immediato come l'apertura della 0DL e la completa liberalizzazione degli orari della domenica parlando con l'assessore con Cafarotti sembra che che la linea sia questa vediamo oggi è una di quelle giornate dove succede dove succede può succedere di tutto naturalmente il comune di Roma può e ne abbiamo già parlato forse anche in precedenza nel giro di pochissimo tempo attuare tutta una serie di interventi che sono molto semplici ma molto importanti per stimolare per stimolare la domanda i primi che mi vengono in mente sono l'abolizione della tassa sull'ombra noi abbiamo ancora una tassa una tassa sull'ombra e va bene l'intervento sui regolamenti della città storica ci siamo scordati che per altri due anni noi non possiamo aprire nel centro di Roma attività che impattano sull'agroalimentare cioè io non posso aprire domani un alimentare a meno che non mi compro una licenza da un negozietto da un bangla come si dice a Roma che magari ha preso la licenza anni passati e a quel punto posso intervenire anche nella costruzione di una qualità differente come offerta come pura offerta all'interno del nostro centro storico e poi naturalmente ci sono tutti quegli interventi che è la cittadella dell'artigianato i bandi sui mestieri il maestro artigiano fino ad arrivare a quello che può fare la regione un swap regionale questo insomma scaricherebbe scaricherebbe tutta una serie di insomma di processi che in questo momento sono profondamente profondamente inutili nell'affrontare sono interventi che possiamo fare domani per rispondere alla tua a una questione fondamentale che è come rinnoviamo come rinnoviamo in questo in questo momento la domanda di prodotti questa crisi è stata simmetrica c'è un colpito domanda offerta forse il momento ideale questo la confrattigia anche la confrattigia del nato nazionale lo dice da tempo di iniziare anche un processo di diversa regolamentazione anche del codice degli appalti anche degli interventi degli interventi reali su infrastrutture reali sarà molto importante soprattutto su questo anche una programmazione più alta della regione sentiamo Zingaretti perché sai su questa cosa qui una cosa è successa prima della crisi del covid Milano volava Roma faceva passi indietro questa crisi del covid forse come dire ha rimesso tutti sulla linea di partenza sarebbe opportuno approfittarne vediamo cosa ne pensa il presidente della regione Nicola Zingaretti nel corso della videoconferenza stampa sulle misure di regione vicina a due il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è tornato sulla questione delle voci circolanti nelle ultime ore di possibili anticipazioni di apertura per ristoranti parrucchieri centri estetici e stazionamento dei clienti nei bar rispetto alla data del primo giugno confermando però che dipende tutto dalla situazione sanitaria all'avvaglio giorno per giorno con raccolta dati che vengono inviati al ministero della salute le date delle riaperture saranno legate agli esiti del monitoraggio epidemiologico che con il governo è iniziato e che ogni settimana ci darà il livello di pericolosità della curva epidemiologica nella nostra regione e quindi abbiamo concluso il come aprire e valuteremo settimana per settimana il dove e che cosa aprire io questo lo dico perché c'è stata ed è in corso in questo un dibattito la regione Lazio si baserà sulla valutazione scientifica del monitoraggio epidemiologico fatto di concerto con il governo regione per regione questo è molto importante dirlo per dare sicurezza e perché ripeto già sono avviate la discussione e poi le procedure per fare in modo che dal bar al ristorante allo stabilimento balneare all'attività commerciale quando si potrà aprire lo si faccia in piena sicurezza io voglio sottolineare questo aspetto è evidente che la sicurezza degli esercizi commerciali sarà la nuova discriminante per frequentarli questi luoghi e quindi un investimento oggi su questo aspetto è molto molto importante per garantire che poi una volta aperto l'esercizio commerciale possa essere percepito e lo sarà allora anche diciamo così rispetto all'idea della regione mi è sembrato che il presidente Zinghetti dicesse che il come lo hanno già stabilito ma io non l'ho visto trasferire il come cioè dettagliatamente perché mi sembra che il come deve essere ancora deliberato a livello nazionale applicato esatto aspettiamo lo dicevamo all'inizio il DPCM si trasformerà in una serie di indicazioni che si è letto anche il vademe con dell'INA inizia con appunto parlando di indicazioni che saranno poi trasferite che acquisiranno in un secondo momento una norma di legge il problema qual è? cioè a prescindere dalle dalle fonti del diritto prendiamo i ristoratori noi in questo momento abbiamo come metri quadri a disposizione della singola persona se non ricordo male sta solo 07 o 08 con le nuove regole saranno 4 metri quadri vuol dire perdere in un colpo solo circa 250.000 posizioni se ti fai il calcolo questo si traduce in licenziamenti adesso non si può fare si farà alla fine del processo di cassa integrazione tutto quello che vogliamo ma saranno licenziamenti e lo stesso può avvenire per le altre attività allora qualunque regolamento va bene qualunque procedura va bene qualunque nuovo processo di lavoro da attivare va bene l'importante che sia calato sulla realtà imprenditoriale in questo momento non è così non è così aspettiamo appunto oggi è giornata campale vediamo quello che vediamo quello che succede nel frattempo sicuramente la regione qui sposta un po' il livello sul sul comparto che rappresentiamo può attuare una serie di percorsi abbastanza semplici il primo che mi viene in mente è l'albo dell'impresa artigiane trasformato in annotazione del registo imprese si può fare domani immediatamente il SUAP l'abbiamo già l'abbiamo già accennato le botteghe scuola ce le siamo già dette non abbiamo il testo unico del commercio non abbiamo i regolamenti abbiamo il testo unico non abbiamo i regolamenti abbiamo delle norme folli sul commercio in area pubblica qualunque mercato in questo momento credo che sia un unico sistema il sistema italiano in questo caso non solo regionale se vuoi mettere una posizione bancomat in un qualunque mercato la cosa più semplice avvicinandoci alla qualità dei mercati spagnoli ispiriamoci ai nostri cugini non lo possiamo fare quindi per ritornare a come rimpattiamo sulla domanda rimpattiamo anche riqualificando il nostro sistema e non dobbiamo aspettare i finanziamenti garantiti al 100% da MCC per fare questo lo possiamo fare domani sì sicuramente questo è molto importante dobbiamo cercare di pensare anche come generare nuova attività produttiva perché questa fase qui sicuramente come ben dicevi tu rischierà prendiamo il caso della ristorazione che la metà dei dipendenti della ristorazione rischieranno di essere fuori non possiamo pensare di caricare tutte queste persone sulla fiscalità generale tutti i dipendenti del settore alberghiero anche quelli rischiamo come dire di averli tutti disoccupati anche quelli rischiamo di averli tutti sulla fiscalità generale allora anche qualche stimolo qualche idea nel riprendere forse qualche filiera produttiva che si è persa su questo penso che l'artigianato qualche cosa lo può stimolare anche perché oggi per esempio c'è una chiara difficoltà nell'importare merce esportare merce cioè come dire c'è l'opportunità di rigenerare sui territori un po' di produzione di beni che comunque vengono consumati no? perché è difficile acquisirli all'estero non vorrei che tutti adesso non se la prendano diciamo quelli dei portali e-commerce però non vorrei che tutto si trasferisse sul sistema dell'acquisto online cioè riusciamo a da questo punto di vista a ricostruire un po' di tessuto produttivo su questo territorio ti dico quello che sta facendo Milano in questo momento che ha un assessore importante da questo punto di vista loro stanno praticamente rifacendo i marciapiedi su questo stanno ritrasformando proprio in linea con quello che stavi dicendo un mercato molto largo in questo momento lo stanno riconducendo a livelli di prossimità e quindi a un mercato di vicinato è un qualcosa che dovremmo fare anche noi che sta nelle cose è quasi un percorso obbligato in questo momento tu lo puoi fare con partendo da degli atti amministrativi diciamo importanti ritrasformando il sistema non solo la logistica ma tutta la parte infrastrutturale non ti basta perché non è facile ricostruire le filiere e riportarle su un sistema veramente di prossimità ci dobbiamo provare naturalmente lo possiamo fare anche tirando fuori molta creatività sui nuovi sistemi di vendita che possiamo calare cioè noi possiamo pensare anche e si sta facendo in molte realtà stiamo provando a farlo anche nella nostra realtà romana l'Amazon che vende tutto il mondo lo vuoi trasformare in applicazioni anche molto simpatiche molto veloci e molto ben fatte che valorizzano i mercati di prossimità che valorizzano l'esercente che hai sotto casa la logica è prima di andartelo a comprare su Amazon potrebbe averlo anche il negozio che sta sotto e magari anche la metà del prezzo allora questo si sta facendo su questo probabilmente il comune potrebbe accelerando non solo delle procedure ma all'innesto di risorse in particolari potrebbe assolutamente dire la sua sia il comune che la regione aspettiamo grazie al presidente Andrea Rotondo della Confartigianato Città Metropolitana di Roma i messaggi sono stati chiari abbiamo dato giustamente tutti i riferimenti comunque se qualsiasi imprenditore della Città Metropolitana di Roma ha qualche altro quesito da fare può prendere contatto con la Confartigianato Città Metropolitana di Roma il sito è www.confartigianato Roma .it e poi ci sono i vari sistemi social app e prende riferimento un po' con tutti grazie ancora Andrea di tutto quanto grazie per le delucidazioni che hai dato e ci aspettiamo altre risposte dal sindaco Virginia Raggi e dal governatore presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti pubblicità grazie questo è un paradiso buono devo dirvi che fa abbastanza impressione vedere tanti prosciutti così interi se entri da Lattanzi non ne esci più tra profumi e sapori tra salsicce e porchette tra coppiette e salami ci ritornerai con la persona che ami Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli via Casilina chilometro 21 e 600 laghetto di Monte Compatri telefono 06 9476 055 www.antica-norcineria.com 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 20 21 metto uno in più va bene guarda un po' quant'è questa 3, 100 kg la salsiccia va come il vento 3 kg di salsiccia qui 3 kg hai detto 30 salsiccia finito con me io prima di comprare qualcosa il maiale soprattutto voglio che sia italiano allora vengo qua all'antica Norcineria Lattanzi Franco e guarda guarda non le comprereste tutte? mamma mia è che mi fa un po' male al fegato dopo un po' però tutta sta fila si può fare come si dice a Roma si può fare senza conservanti senza conservanti senza coloranti senza glutine senza lattosio da chi? da Lattanzi tutta l'uva italiana tutte Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli via Casilina chilometro 21 e 600 laghetto di Monte Compatri telefono 06 94 76 055 www.antica-norcineria.com